Ciao a tutti bambini! Continuiamo anche in questo video a parlare dei numeri decimali. Nei video precedenti abbiamo visto cosa si intende per frazione decimale. Abbiamo visto inoltre che dalla frazione decimale si può passare al numero decimale e viceversa. Abbiamo visto che, caratteristica importante di tutti i numeri decimali, è la presenza della virgola, ovvero abbiamo imparato che tutti i numeri decimali hanno la virgola. Bene, adesso iniziamo questa video lezione ponendoci una domanda molto importante. A cosa serve la virgola? Allora proviamo a spiegarlo. La virgola, bambini, serve per separare due parti. Nel mio numerino la virgola separerà due parti. La parte intera e la parte decimale. Ok? Per spiegarlo cosa facciamo? Costruiamo una sorta di tabella. Eccola qui. Abbiamo messo questa virgola al centro perché separerà due parti. Avremo a destra la parte decimale, a sinistra la parte intera. Quindi, bambini, a cosa serve la virgola? Serve a separare la parte decimale dalla parte intera. La prima cifra nella parte intera, quella vicina alla virgola sarà rappresentata dalle unità. La prima cifra vicina alla virgola nella parte decimale sarà rappresentata dai decimi. Facciamo un esempio. 0,1. Dove andrà lo 0? qui. 0 unità. 1 qui. Nei diecimi. Ok? 0,1 sarà così in tabella. 1 rappresenta i decimi, 0 le unità. Ok? Andiamo avanti e consideriamo un altro numerino. Consideriamo il numero decimale 0,01. Partiamo con la tabella che abbiamo precedentemente costruito. Quindi, la virgola mi servirà per separare la parte intera dalla parte decimale. C'è una cosa che potete osservare subito, bambini, è che, secondo voi, questa tabella può contenere il mio numero? No. Qui ho due caselline, ho due colonne. Le cifre sono tre. Quindi dovrò necessariamente inserire una nuova colonna e la nuova colonna andrà inserita nella parte decimale perché a destra della virgola ho due cifre. A sinistra rispetto alla virgola avrò una sola cifra. Questa colonna che ho aggiunto cosa rappresenterà? I centesimi. Ok? Quindi cosa avrò? Avrò un centesimo, 0 e 0. 0,01. Ok? Chiaro, bambini? Diamo avanti. Altro esempio. 0,001. Tabella precedente. Tre colonne. La virgola che separa la parte intera dalla parte decimale. La parte intera è rappresentata dalle unità. La parte decimale è rappresentata dai decimi e dai centesimi. In questo caso quante cifre ho da inserire in tabella? Sono quattro. Le colonne sono tre. Dovrò inserire un'altra colonna. Dove la inserisco? Nella parte intera o nella parte decimale? Nella parte decimale. Se qui ho i decimi, qui ho i centesimi, cosa dovrò inserire qui? I millesimi. E quindi, partendo dalle unità, lo zero lo metto qui. Questo zero vicino alla virgola rappresenta i decimi, dopo seguono i centesimi e infine i millesimi. Ok? Chiaro, bimbi. Adesso cosa possiamo stabilire quindi? Possiamo stabilire che nella nostra tabella abbiamo che cosa? Una parte decimale e una parte intera separate dalla virgola. La parte decimale sarà rappresentata dai decimi, centesimi e millesimi. Sapete, bambini, però, che c'è un modo preciso per chiamare questa parte della tabella? Periodo dei decimali. Quando si parla di decimi, centesimi e millesimi si parla sempre di periodo dei decimali. Ok? Ma secondo voi non manca qualcos'altro? Nella parte intera possiamo inserire solo le unità? Direi proprio di no. Scommetto che avete già capito, perché possiamo inserire le decine, possiamo inserire le centinaia. Unità, decine, centinaia, tutte insieme, rappresentano il periodo delle unità semplici. Possiamo andare avanti, vero, bambini? Nella parte intera non abbiamo solo il periodo delle unità semplici, ma quest'anno abbiamo visto che cosa? Che prima delle centinaia abbiamo le unità di migliaia, poi le decine di migliaia, poi le centinaia di migliaia. Tutte insieme rappresentano il periodo delle migliaia. Ok, bimbi? Quindi, adesso la nostra tabella è completa. Abbiamo la parte decimale rappresentata dal periodo dei decimali e quindi dai decimi, dai centesimi e dai millesimi. La parte intera rappresentata dal periodo delle unità semplici e quindi unità decine e centinaia è il periodo delle migliaia, cioè unità di migliaio, decine di migliaia e centinaia di migliaia. Questa tabella è molto importante, dovete imparare ad utilizzarla. Facciamo degli esempi. Allora, consideriamo questa cifra. Innanzitutto come si legge? Si legge 2,381. Pensiamo di voler inserire questa cifra nella tabella. Allora cosa faccio? Parto dalle unità, ok? Questo 2 e lo metto qui. Poi, dopo la virgola, che cos'ho? Ovrò i decimi. Quindi il 3 andrà qui. Dopo i decimi, i centesimi ed infine i millesimi. Ok? La virgola non la riporto perché tanto c'è già qui. Andiamo avanti con l'altro esempio. Questi li cancelliamo. 41,602. Allora, la virgola 41. Il 4 andrà nelle decine, l'1 nelle unità. Il 6 che cos'è? Decimi. Lo 0 che cos'è? I centesimi. Il 2 che cos'è? I millesimi. 41,602. Ok? Dovete essere bravi, bambini, a localizzare la virgola. Nel momento in cui vedete dov'è la virgola, sapete che a destra ci saranno i decimi e poi i centesimi e i millesimi. A sinistra le unità, le decine, le centinaia e via dicendo. Cancelliamo questi e facciamo l'altro esempio. 682,43. La virgola è qui. partiamo dalla parte intera. 682 e quindi avrò 6 centinaia, 8 decine, 2 unità. Mentre qui avrò 4 decimi e 3 centesimi. Ok? Altro esempio. 3742,5. Allora, parte intera. Un trucco, bambini, è partire dalle unità. Se io parto dalle unità è facile perché 2 unità, 4 decine, 7 centinaia, 3 unità di migliaia. E il 5? Sono millesimi? Questo 5 era vicino alla virgola. Ok? Quindi 5 saranno decimi. Ok, bimbi? Bene. Adesso, dopo aver fatto questo esempio, abbiamo una cosa molto importante da dire e che deve essere precisata. Ed è la funzione dello zero nei numeri decimali. Allora, cosa succede? Succede che in alcuni casi lo zero nelle cifre decimali, nei numeri decimali può essere eliminato. Ok? Può essere tolto. Vediamo quando. Allora, puoi togliere lo zero solo quando è l'ultima cifra della parte decimale. Facciamo l'esempio. Ok. Io ho il mio numero decimale. Il mio numero decimale è 4,950. Lo zero è l'ultima cifra. Se io lo tolgo, cosa succede? Avrò 4,995. Il 5 rappresenterà sempre i centesimi, il 9 sempre i decimi e il 4 sempre le unità. Quindi questo numero sarà uguale a questo numero. Per questo posso eliminare eventualmente lo zero. Ok, bimbi? Quindi lo zero va tolto solo quando si trova nella parte... quando rappresenta l'ultima cifra nella parte decimale. Per esempio, e quindi di conseguenza, non puoi togliere lo zero quando è all'interno del numero. Vedete? Se ho 4,905, se io togliessi lo zero, cosa succederebbe? Che questo 5 da millesimi passerebbe a centesimi. Ma questa cifra non è uguale a questa cifra. Ok? 4,905 non è 4,95. Chiaro, bimbi? Quindi quando potete togliere lo zero? Solo quando si trova alla fine della parte decimale. Solo quando rappresenta l'ultima cifra della parte decimale. Chiaro? Bene, bambini, con questo abbiamo concluso la nostra video lezione. Vi abbraccio tutti tanto, tanto, tanto. Vi ringrazio per l'attenzione e niente. Alla prossima. Bacio grande, grande. Ciao, bimbi!